bello a tutti ragazzi e bentornati qui qui da Hobbit, sono sempre io del vostro mecca e oggi siamo qui con uno spacchettamento molto particolare, si ragazzi perché vi sto portando lo starter deck attacco link di Yu-Gi-Oh! ragazzi questo è il primo mazzo dove introducono le carte nuove quindi anche la modalità di gioco è molto più diversa rispetto a quella che c'era prima quindi andremo ad aprirlo ma prima di aprirlo vi chiedo di lasciare almeno qualche bel like sempre per supportarmi e condividere il video quindi ragazzi detto questo andiamo subito a vedere una cosina particolare come ben ricordate noi prima avevamo questo deck che era il deck demo infatti come potete vedere sulla carta c'è scritto proprio demo qua come potete vedere demo in gigante praticamente erano carte dove non potevi giocarle potevi solo far dimostrarle diciamo così quindi per fare provare il gioco in teoria il deck dovrebbe essere uguale in teoria questo non so dirlo infatti adesso andremo subito a dare un'occhiata al deck ufficiale che è questo qua in questa bellissima scatolina che vedete qua azzurra ok ragazzi se non avete visto i recenti video perché sul dove anzi sui recenti video su dove e come si giocava praticamente vi lascio il link sempre in descrizione così capirete come funziona questo nuovo tipologia di di link quindi detto questo raga direi di andare a guardare l'artwork e come fatta la scatoletta la scatoletta è così molto piccolina starter deck attacco link questo sarà il nuovo protagonista che il nome non mi ricordo perché era extra difficile quindi non lo so ragazzi comunque lui sarà il nuovo yugi della situazione praticamente poi avrà sicuramente affianco la sua carta principale che è questo qua che ovviamente è la carta principale del deck e qua dietro abbiamo come al solito tutta la lista delle carte che purtroppo non riesco neanche a leggere perché è talmente piccolo quindi andremo subito ad aprirlo e guardare il contenuto ok raga detto questo andiamo a strappare così tranquillamente la confezione e cosa avremo dentro quindi andiamo a tirare fuori questo e sposto questi qua in là e andiamo a vedere ok raga come al solito dentro c'è il manuale di come funziona il gioco base e poi hanno messo ovviamente per il link perché siccome la tipologia del gioco ora è cambiata infatti come vedete qua attacco difesa eccetera eccetera ma sicuramente più avanti se troviamo qua tutto regole base 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 ok qui infatti come potete vedere incomincia le regole quelle famose che noi avevamo sul foglio disegnato in inglese non si capiva praticamente niente ed eccolo qua come potete vedere tutte le fasi quindi basta che voi leggete le fasi imparate tranquillamente a giocare con questa nuova tipologia di link ok e questo direi che è molto interessante poi cosa abbiamo qui ah il tappetino attenzione andiamo a dire com'è questo nuovo tappetino io ce l'ho qua il gigante per due giocatori ovviamente invece qua dovrebbe essere quello singolo sì esatto eccolo qua ragazzi questo è quello singolo che tra l'altro qui la carta è tagliata pure a metà perché ci vorrebbe quello dell'avversario che poi viene praticamente messo esattamente così e completa la zona e questo è il tappetino lo faccio vedere accanto qui in alto eccolo qua molto molto carino e questo è uno dei tappetini infatti le zone pendulum sono scese qua alzo la terreno vabbè poi questo sono cose in più che andrete a vedere poi ovviamente voi quando comprate il deck ok ragazzi detto questo andiamo subito aprirlo strappiamo questo affarino qua ok e tiriamo fuori il nostro deck ok eccoci qua eccolo qua già questa è una carta nuova che non c'era nel deck demo ragazzi quindi andiamo ad aprirlo come si fa ecco qua c'ha l'elastichino magico ok ed eccoci qua iniziamo con lui l'incassassino questo è un saiberso e vi ricordate le famose saiberso 5 stelle molto 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 carino poi che abbiamo qua eccolo qua decodificatore trasmettente e questa è la carta principale del giocatore e quindi del nuovo protagonista molto molto carina infatti la foliatura è molto bella guardate come è fatto bene a differenza di quello che ci avevamo dato noi demo qua che era come un accio ok molto molto bella carina 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 quindi andiamo subito con la prossima carta ram clouder sempre saiberso miele miele bot eccola qua tra l'altro queste due sono ultra ragazzi queste due sono ultra come vedete qua scritte d'oro e queste sono tutte super saiberso anche lei link link 2 quindi vi ricordate vabbè se vi ricordate nella descrizione c'è scritto tutto come evocarle ragazze quindi non vi preoccupate ragno link anche questo è super e poi abbiamo le nostre carte comuniche adesso andiamo a vederle tutte quante mi raccomando quindi bytron che questa è la carta per ora è importante perché serve per evocare questi quindi non è da lasciare a parte quindi mi raccomando usate la dracorete serpente galattico questa è una carta abbastanza vecchiotta anche questa drago carapace e questa la giocavo ai tempi ragazzi il re bestia barbaros cyber drago sempre giocato ai tempi e anche adesso distruttore fotonico universo hexarion mandragora capitano saccheggiatore famosissimo sanga sempre stato bannato e ora sbannato poi nel frattempo stiamo facendo un disastro come potete vedere curi bandito marshmallow fortissimo a carta indistruttibile carcauto di carcardi come è detta poi abbiamo ricco dei fedeli della luce un dissolvitore di battaglia spaventapasseri veloce dissimulatore di effetto giustamente abbiamo due dissimulatori cyber univers... no... kinet... kinet universo si sarebbe... kinet universo è cyber universo si per i cyber giustamente mostro reincarnato buco nero tifone carta giocatissima libro dell'allona lancia proibita uniti resistiamo questa è stata una delle prime carte ragazzi tanta roba jar della dualità fardello del potente squadra di fornimento terra formare anfora l'avarizia richiamo del posseduto forza riflessa si gioca ovunque tributo torrenziale annero della distruzione buco trappola senza fine dispositivo di salvataggio obbligatorio e poi catena demoniaca e come ultima corruzione oscura molto molto bella e giocata ok ragazzi adesso come potete vedere avrò una maglietta diversa per quale motivo ragazzi perché purtroppo ieri mentre registravo il pezzo finale del video partendo la fine quando faceva il riassunto la mia telecamera ha smesso di funzionare quindi ho dovuto aspettare non so quanto tempo infatti non capivo se si era solo riscaldata neanche non lo so ma ha voluto smettere allora ho dovuto fare il pezzettone il giorno dopo quindi adesso ok raga quindi cosa dovevo fare un piccolo riassunto e vedere quante carte magie trappole mostri ci sono nel deck quindi noi abbiamo tre che sono i link quindi nell'estra deck quindi fuori dal deck poi abbiamo 5 10 11 magie che sono tutte tra l'altro giocate si ma praticamente tutte si giocano poi cosa abbiamo? tre mostri che sono quelli normali quindi sono importanti per questo deck infatti soprattutto questo che è il bitron è quello più importante diciamo per tutto il deck poi abbiamo il serpente il drago e questi sono altri tre poi abbiamo ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trappole che sono 9 trappole anche queste tutte giocate ma veramente tanto soprattutto questo che dopo l'hanno sbannato molto forte anche la l'anfora che prende 5 carte al cimitero le gamete del deck molto molto forte quindi e questi sono tutti i nostri mostri adesso sono veramente tantissimi ragazzi ci sono veramente tanti ovviamente ne abbiamo adesso dobbiamo contare 5 10 15 16 17 abbiamo 17 mostri tra l'altro tutti con effetti diversi giustamente poi adesso vi voglio farvi dire una cosa guardate questo che è un piccolo errore di stampa adesso non so se si vede molto bene guardate qua il bordo nero come piccolo e qua sotto come grande vedete è stata stampata malissimo mentre io ce ne sono anche altre eh per esempio tutto il deck è coperto tutto stampato male guardate ragazzi tutto stampato male quindi già errori di stampa molto molto interessanti e evidente queste sono tutte le carte per il mazzo link queste qua sono le due carte principali dei mostri in Italia ce ne doveva essere anche la terza eccola qua queste qua sono i nuovi chiamati sai verso che sono i primi a essere chiamati sai verso di una lunga serie sicuramente perché ne faranno tanti altri e niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel like iscriviti e condividete e noi ci vediamo al prossimo video bella raga iscriviti e iscriviti e iscriviti a cura di QTSS iscriviti e iscriviti e iscriviti e iscriviti e iscriviti a cura di QTSS